Amici telespettatori, benvenuti ad un'altra puntata con il dottor Andrea Nardi, il nostro specialista in flebologia dell'ospedale di San Camino di Treviso. Ecco dottore, l'ultima puntata abbiamo lasciato con questa curiosità ai nostri amici telespettatori del tema tanto caro alle signore prima dell'estate, dei capillari, che però non sono come le vene varicose, sono una cosa un po' diversa, più superficiale, queste linee sottile che rovinano il look, ma vogliamo tranquillizzare un po' le signore. Ok, allora in effetti si chiamano teleangectagie, questi capillari, sono uno degli aspetti della malattia venosa cronica. Diciamo che siamo su un livello molto più superficiale perché le teleangectagie sono a livello dermico, quindi molto molto superficiali e non necessariamente sono per forza di cose collegate a una patologia venosa sottostante. Se si decide di trattarli perché esteticamente non ci piacciono è fondamentale comunque fare una corretta diagnosi, cioè ha poco senso andare a trattare qualcosa in superficie se per qualche motivo è alimentato da delle venule più piccoline, un po' più grosse, reticolari che sono sottostanti. È come dire, come dico sempre, è come andare a togliere l'acqua dal pavimento senza prima andare a chiudere il rubinetto che l'ha provocata. Quindi quando siamo di fronte a una richiesta di tipo estetico, perché danno una scarsa sintomatologia anche se qualcuno avverte questi nuovi capillari quando escono, la cosa corretta è di dire andiamo a vedere con una metodica non invasiva, una metodica diagnostica di cui potremo anche poi parlarne, che è l'eco color doppler, andare a vedere come sta il sistema venoso superficiale, come sta il profondo, se ci sono venuline che alimentano queste ragnatele, questi capillari che hanno una localizzazione di solito ben precisa nelle gambe e una volta che noi abbiamo escluso patologie sottostanti che li alimentano, possiamo dedicarci di trattarli con queste microscopiche piccole iniezioni che è la scleroterapia, piuttosto che con utilizzo laser quando è possibile, in alcuni casi selezionati, e ottenere dei buoni risultati di tipo estetico. Tranquilizziamo le signore se l'estate è già passata però arriverà quella successiva. Diciamo che l'estate è già passata, spesso la richiesta di trattamento arriva verso maggio-giugno quando c'è la prova costume, l'ideale è pensarci per tempo, allora uno dei limiti di queste terapie è che non si fanno durante l'esposizione al sole, cioè si devono fare nel periodo invernale, quindi diciamo il periodo ottobre-aprile è un periodo buono, quindi diciamo nel periodo ottobre-aprile è litratto, i farmaci che si utilizzano sono fotosensibili, quindi non possiamo esporci al sole, che è una delle poche controindicazioni di questa terapia e quindi si fanno nel periodo invernale proprio per apparire con una riduzione estremamente importante di queste teleangectasie quando inizia la bella stagione, quindi non dobbiamo pensarci a maggio, dobbiamo pensarci un po' per tempo. Anche la prova costume in effetti bisogna iniziare la prima, sono d'accordo con lei. Ecco, vediamo un po' invece la fase magari in cui per mancanza di tempo, per certe volte magari dedichiamo tanto tempo al lavoro, agli altri, ai figli e alle cose da fare, poi magari ci trascuriamo, quindi cosa succede se trascuriamo l'aspetto intervento, prevenzione, come diceva prima, quindi arriviamo a una fase estrema. Certo, allora a me piace precisare anche questa cosa, lo dico sempre in ambito di visita, spesso le persone si rivolgono quando hanno delle varicci proprio perché dicono sono brutte da vedere, mi danno un po' fastidio, però sono presenti da un sacco di tempo. diciamo il trattamento, sia che sia ecoscleroterapico, sia che sia chirurgico, che sia con metodiche non invasive, ablative, eccetera, eccetera, qualsiasi sia la tecnica, il concetto è io vado ad operare le vene quando sono ad operare, non per un problema estetico, ma per evitare di avere le complicanze delle vene. Le complicanze più temibili, diciamo, della malattia venosa quando lasciata andare sono le trombosi, superficiali o profonde, sono le ulcere e sono sanguinamenti dettati dal fatto che delle vene molto pronunciate, sottopelle che vengono, che proprio si vedono fuori, con dei piccoli traumi possono crearci momenti di panico perché si rischia di avere un'abbondante emorragia in caso di trauma. Quindi è bene educarli a questi ed è bene proteggere da queste tre grosse complicanze importanti. Ci sono anche complicanze prevalentemente estetiche che sono delle macchie, si chiamano emossideriniche, cioè questo sangue si porta sotto pelle e vengono quelle macchie scure che se prese per tempo hanno un margine di ritorno, se lasciate andare è una macchia che dura, che ci accompagnerà poi per il resto della vita. Ecco dottore, analizziamo allora, così lasciamo, diciamo, soddisfiamo un po' la curiosità dei nostri amici, dei rispettatori, quali sono queste tre situazioni che diceva lei, quindi la trombosi, le ulcere? Allora, la trombosi, diciamo, noi abbiamo una trombosi quando il sangue rallenta a tal punto perché il vaso si dilata, rallenta fino a coagularsi all'interno. Quando noi abbiamo un sangue che rallenta il ciclo, si forma questo trombo, una specie di tappo, diciamo, che può diventare pericoloso perché se non è stabile può muoversi e andare in giro e quindi avere delle complicanze anche più importanti come le embolie polmonarie, quindi complicanze molto importanti. E questa è la complicanza, diciamo, un po' più pericolosa dove però abbiamo delle armi per poterla contrastare, le iparine, eccetera. L'altra complicanza dove bisognerebbe non arrivarci mai è l'ulcera. Insomma, se io ho un'insufficienza venosa importante con delle varici trascurate, con un grosso ristagno di sangue nella periferia perché il sangue, appunto, come dicevamo nelle precedenti puntate, tende a scendere, al minimo trauma io ho il rischio di rompere la cute. È una cute non così ben irrorata nel microcircolo perché ho questa insufficienza e la rottura della pelle mi forma questa ulcera che è velocissima ad uscire e molto, molto lenta a guarire. Quindi è un'evenienza che a volte si vedono persone che vanno avanti con sei mesi, otto mesi, poi giungono all'osservazione e uno diceva una situazione drammatica a cui sovrainfezioni, eccetera, eccetera. Il sanguinamento è i piccoli traumi di chi non si protegge magari con l'elastocompressione che è un altro tasto che vorrei un attimino approfondire come prevenzione, dove magari abbiamo una calza opportuna, opportunamente scelta in base alla persona, in base alla tipologia che mi simula un po' l'intervento, mi tiene le vene all'interno e mi protegge anche da piccoli traumi. Quindi mi aiuta la sintomatologia ma mi protegge anche la cute. Quindi l'elastocompressione gioca un po' la, tutta la parte della compressione gioca un ruolo estremamente importante nella malattia venosa e anche nella prevenzione di queste temibili, temibili complicanze, insomma. Ecco, dottore, quindi abbiamo visto questa cosa, però entriamo un po' più nel dettaglio, cioè quindi come fisicamente viene fatto l'intervento, perché lei nel puntato precedente ha un po' accennato qualcosa, perché ci sono dei miti appunto l'intervento chirurgico, l'altro giorno non ho sentito parlare una mia amica, si rifavano delle siringhe, però ecco, spieghiamo un po' come funziona effettivamente l'intervento. Allora, tra le terapie, diciamo, che noi abbiamo possibilità, abbiamo delle terapie strettamente chirurgiche o ci sono delle terapie scleroterapiche. Le scleroterapiche sono, la famosa scleroterapia, sono piccole iniezioni che si iniettano o nelle teleangectasie, nei capillarini che dicevamo, o nelle venoline che li alimentano. Quindi è una terapia molto, diciamo, dolce, tra virgolette, molto poco invasiva, che mi permette di iniettare dei farmaci, una sostanza all'interno delle vene e di ottenere la loro chiusura, grosso modo. Quindi una chiusura definitiva? Una chiusura che non è mai definitiva, però è estremamente duratura, con piccoli ritocchi periodici si possono mantenere. Poi ci sono gli interventi un po' più classici. Quando la malattia non è solo dei rami colaterali, ma qui involge la safena, cioè quella vena tra le superficiali principali. Lì ci sono varie tecniche. Noi dovremmo però entrare nell'ottica di dire non scelgo la tecnica, ma scelgo la tecnica più giusta per quel paziente. Allora, dicevo all'epoca che io cerco di risparmiare la safena, se posso, di fare una chirurgia conservativa, cioè di andare a fare microscopiche incisioni mirate, dopo una guida con l'eco color doppler, di andare a correggere i punti dove questa safena perde, diciamo così. Quindi fare una cosa conservativa, mi mantengo il mio patrimonio venoso e riesco a essere conservativo, molto poco invasivo. Ci sono delle metodiche dove in realtà magari devo per forza di cose togliere questa safena perché ormai si è sfiancata e quindi abbiamo dalla chirurgia tradizionale che piano piano si sta un po' abbandonando, alle chirurgie endovascolari cosiddette, cioè con queste microsonde laser sempre più leggeri, sempre più piccoli, che si riesce ad obliterarle con dei meccanismi di tipo termico essenzialmente. E allora in quel caso lì, anziché per evitare stripping di questa safena, si cerca di obliterarla lasciandola là. Non c'è una tecnica migliore dell'altra, ma c'è una tecnica cucita su misura sulla singola paziente. Quindi abbiamo un po' un carnet di trattamenti, abbiamo le colle un po' più innovativi, abbiamo radiofrequenze, cioè ci sono un sacco di strumenti per poter intervenire nell'ambito della safena. Il miglior modo è di conservarci la safena se siamo in grado di poterlo fare. Si chiede che la possibilità migliore, in questo senso sono d'accordo con lei con quello che abbiamo detto le prime puntate, prevenzione perché se no giustamente si arriva. Prevenzione anche nella chirurgia che dobbiamo proporre, conservare il nostro patrimonio venoso se possibile. Certo, dottore, grazie ancora e noi ci vediamo ancora per una prossima puntata. Volentieri, grazie. Grazie.